Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Infipili per lavori 6 km di coda con tendenza all'aumento tra la Strassigna e Montelupo. Sempre infipili per traffico, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso il capoluogo e coda in uscita alla Strassigna e carreggiata opposta. Nel traffico urbano di Firenze ricordiamo i provvedimenti di mobilità contestualmente agli eventi organizzati per l'intera giornata di oggi, 24 giugno, festività di San Giovanni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale informiamo che è prologato fino al 31 dicembre il titolo di viaggio unico metropolitano per il servizio di trasporto integrato urbano su gomma, treno e tramvia. Sono coinvolti i comuni di Firenze, Calenzano, Campi, Fiesole, La Strassigna, Signa, Sesto, Fiorentino e ancora Città Metropolitana e Regione Toscana. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.